Dopo aver perso per l'ennesima volta riproviamo a capire che cosa sto sbagliando Perché c'è qualcosa che non mi sconfiffera Probabilmente l'errore l'ho fatto qua Andando a prendere quei mille crediti Perché sostanzialmente siamo stati beccati Un momento in cui la finanza ha visto che secondo loro stavo guadagnando troppo rispetto alle mie possibilità Da qui con dieci crediti Quindi bisogna rifare qualche giorno fa Allora Nessun è importante Va bene Metti qua Metti qua Ecco non ho più i ticket da dare agli ingegneri Va bene Un pochino più semplificato rispetto a dove ero arrivato prima Leggermente Forza Paper please Sei straniero Diplomatiche Diplomatiche di riconotolizzazione Dunque 05 SRU P1 RHR In visita Ok Un paio di mesi Scade l'83 Va bene Sei maschietto Direi che puoi passare Prossimo Ho sbagliato Forgett Il permesso d'entrata Il permesso d'entrata Mi sa che ho sbagliato Mi sa che ho sbagliato Il logo Dunque Questo era quello che ci prova sempre GC D7 FM Bar Scade Nell'83 3-0-8 Costava Giorgi Questo anche La scorsa partita Poteva Entrare Dai 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 Grazie alla moneta Forza Forza Che brutta Non troviamo il logo Va bene SXPTJ K078H Immigrata Ok Quindi per sempre Scade l'83 E' femmina Sembra di si Va bene Il marchio E' corretto Prego Next Arriva il tizio Hello Hello Grazie 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 Sì Ne piglierò di più Tranquillo Lo faccio per te Lo faccio per te Next Paper please Allora questa entra per lavoro Quanto stai? Un mese A few weeks Va bene Claire Guank Food service Scade l'82 11 Mi spiace signorina Ma Permesso qua Il Passaporto è scaduto E no E no Spiace Next Oh sure Visita Visita Si Manca Il permesso D'entrata Si Spiacente No permesso No parto Next Allora Allora Visita 12 settimane 4 12 Va bene Tynchou 0u3 H2 Va bene Mohamed Benskarane Benskarane Va bene Il Timbro è corretto Una federazione Scadola 84 Sei maschietto Poi Passare Prego Prego Paper please Mi sono andato a fare Immigrato Per sempre J7GX3 KXLP Va bene Grav Medevsky Mi sembra Che non ci siano Controindicazioni A fare entrare Questo qua Non mi sembra Prossimo Paper please Di capo Il primo agente Was denied Quindi penso Rimandato Il secondo Verrà in due giorni Non fare lo stesso Errore Cioè Il primo agente Io sostanzialmente L'ho rimandato Indietro Il secondo Arriverà In due giorni Tra due giorni Non fare lo stesso Errore Manca Sei un Il permesso D'entrata La Maki In transito Per due giorni Va bene Asger Tigel R7TJD 2P6HK Va bene Sembra Sembra Buono Quell'altro Col marchio Ok Si Maschio 84 Vai Next Dica Passaporto Saluti Negativo Ciao bello Next 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 Paper Please Cosa vieni a fare Il lavoro Questa pesca Di lavoro Allora Il Scanner Emil Jessen WGCB6 RHR42 Lavoro per un mese Il marchio qua Forse Una cagata Ma quel documento qua È falso Se Questo con questo Come match Boh Se lo dici tu A me sembra un po' sbagliato Sto cosa Beh Come vuoi Eh Vedi Testa di cazzo Allora Lo straniero Mi ha dato i soldi Sto rifacendo questo Proprio per evitarlo Perché altrimenti Mi blocca tutto Vai Quindi Non abbiamo preso i soldi Questa volta Proseguiamo Dica Buongiorno Sì Dica Dica Si sbaglia Simbolo come questo No Mai visto Mai Visto Mai Ciapa Sembra figli di puttana Sì È un gruppo pericolosissimo Lo so 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 Va bene Via che si inizia Il signore è di qua Dunque Mappa Paradiso Non può passare Fardesto C'è Va bene Sei un maschietto Scalone 74 Elsel Lucas Direi 75 kg Direi che Puoi Passare Prego Prossimo Prossimo Paper please Sei venuto in visita Per quanto Tre settimane Tre mesi Giusto Sei un maschietto Scalone 84 M3N X7 4H XG1 Va bene Sembra tutto Positivo Cos'ho sbagliato Il permesso D'entrata Gli stranieri Hanno bisogno Del permesso D'entrata Va bene Mi sa che Non l'ho mica capito Mi sono sbagliato Zone Questo è di qua Quindi Orvec Vonor Vescilio district 90 kg Scalone 84 MESOF ANEGOVIC Va bene Ingegneri Ok Questo dai I pirulicchi Da dare Agli ingegneri Che trovo Va bene Peppers Where is your Passport Questa è qua Tre mesi Passport Please Grazie Allora La signora Maria Cahan 7UPCS DU 53N In visita Per tre mesi Quello che ha detto Direi che Va bene Prego Next Paper please Motivo del viaggio Immigrato Con la moglie Va bene Scandolo 84 Pogreba Michel SLKUD WPNCC Entra per sempre Mi sembra che Ci sia tutto Vale Dica Ok Per quanto D'origine Ok Va bene G2K Va bene Questo c'è Maria Vanco Vanco Maria Continuo a pensare Che sia Un maschietto Niente Come l'ho detto Si vede che Mi sbaglio io Prego Next Ma sei brutto Questo entra in lavoro Tre mesi Per lavoro Lucas Tiel Va bene 73 9 N RP 8 8 E Ok Puoi entrare Scandolo 84 Puoi entrare E ti do uno di questi Visto che sei un simpatico Ingegnere Vada Next Paper please Sei venuto per visita 90 giorni Sono 3 mesi 3 6 9 Scandolo 84 B2 JVF CJ T6V Andrei Bucceceani Bucceceani Va bene Poi entrare Prego Next Sei brutta Transita Per quanto Un paio di settimane Scadono 83 10 14 DF Ai 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 Signorina Che è successo No Esplosione La giornata è stata Più corta Come stiamo Vavo A continuare a darmi soldi Cazzo Devo bruciarli Perché altrimenti Tocca rifare tutto ancora Niente soldi Dio Grazie a tutti.